Parliamo della serata di beneficenza ospitata ieri sera nel cortile dell'Ex Aurum di Pescara, promossa dall'Associazione Iside. È stata lanciata una raccolta fondi per donare un'incubatrice mobile all'ospedale Santo Spirito. Uno strumento indispensabile, ha spiegato il professor Carmine Dincecco, primario del reparto di neonatologia, non solo per il trasporto in ambulanza dei neonati prematuri, ma anche per il loro spostamento tra i vari reparti per visite specialistiche o interventi. Ad accettare con entusiasmo e generosità l'invito dell'Associazione, lo vedete, un gruppo composto da 12 giovani musicisti abruzzesi, i Simpli Michael, di età compresa tra i 16 e i 25 anni, con alle spalle una solida formazione artistica e una passione in comune, lo swing di Michael Bublé. Grazie per l'ascolto, è tutto. A voi l'augurio di una buona serata.